Giovedì 30 gennaio si è giocata la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Puglia e Lucera Calcio ha ospitato il Real Zapponeta vincendo 2-0 al Comunale. Una partita non brillante con gli avversari già incontrati in campionato qualche domenica fa sempre pronti a rallentare il ritmo di gioco. Partiti molto bene i lucerini con la zampata di Mamà nel primo minuto di gara che ha portato la squadra in vantaggio, il secondo gol è giunto solo sul finale della partita con la firma di Pietro Di Gioia. In campionato si torna a giocare domenica 2 febbraio in cui è in programma la difficile trasferta San Nicandro di Bari contro il Real San Nicandro che ha pareggiato lo scorso turno con la prima in classifica Foggia in Cedit per 1-1, nonostante sia terz'ultimo in classifica 14 punti. Fischio d'inizio della partita alle ore 15. Grazie a tutti.